Ciao, sono Davide Simoncelli della Nazionale Italiana di Ski, faccio gigante. Per me la competizione è portare al limite quello che ho provato in allenamento e confrontarmi con i più forti del mondo. Se riesco a fare un buon lavoro sono contento, se no mi rimetto a lavorare per tornare alla prossima competizione. Se non avessi sciato probabilmente avrei fatto il batterista in una rock band, invece no, sono qua a sciare tutti i giorni. Nel mio tempo libero però riesco a dedicarmi alla discesa con le mountain bike downhill e sto provando a fare surf. quando il tempo me lo permette, quindi vado a cercare mari che mi permettono di imparare a fare surf e gioco a calcio, è la mia passione da sempre.